Si rinnova come ogni anno l'appuntamento con il palio della rana a Fermignano. Dal 21 al 23 aprile infatti si svolgerà la 53esima edizione che vede lo sfidarsi nel torneo storico delle sette contrade cittadine, ognuna delle quali capitanata da un cavaliere che dovrà guidare sulla propria carriola la regina indiscussa, la rana appunto, fino alla fine del percorso e se dovesse venirle in mente di saltare via per le strade cittadine, il cavaliere dovrà riprenderla, riportarla in carriola e avere cura di lei, come si usava a fare con le dame di altre epoche. Il percorso lungo 170 metri è sottoposto a due regole, prima fra tutte il divieto assoluto di nuocere all'animale e per questo attenti veterinari vigilano sulla gara, pronti ad intervenire in caso di imprevisti, ma come in ogni inaugurazione che si rispetti, le polemiche non hanno tardato ad arrivare. Sì, è ritornata questa polemica dopo circa dieci anni e questi pseudonimi naturalisti, animalisti, ci accusano di maltrattare la nostra regina del momento, diciamo, perché non è assolutamente vero. A smorsare i toni l'invito del presidente della Proloquo che organizza l'evento con impegno e passione e soprattutto nell'assoluto rispetto della protagonista, sua maestà la rana, che gracidando ringrazia chi verrà a Fermignano per festeggiarla. Io invito questi signori o signorine o signore di partecipare a questa rievocazione storica e poi ci diranno dove sbagliamo, per carità, tutto può succedere, però dovete sapere che se la rana arriva appena ferita al traguardo ce la squalifica, quindi nessuno ha, diciamo, come si dice, la volontà di far del mare a questo povero animale. Via!